Nuova settimana, nuovo appuntamento con tra le righe consigli di lettura in libreria, la libreria Padre Pio a pochi metri dal santuario di Santa Maria delle Grazie. Ebbene, come sempre, ormai è una tradizione, quindi tanti che ci seguono ormai conoscono lo schema di questo programma, partiamo con un libro Edizioni Padre Pio da Pietrelcina, che ha come protagonista il Santo Frate del Gargano. Un libro firmato da Fra Riccardo Fabiano intitolato Le autentiche preghiere di Padre Pio. Un libro da tenere sul comodino, come spesso ci piace delineare, appunto indicare alcuni libri, da poter aprire al mattino o la sera prima di andare a dormire. E allora, Le autentiche preghiere di Padre Pio, appunto di Padre Riccardo Fabiano, leggiamo nella presentazione. Tutte queste autorevoli riflessioni non devono indurre i devoti di Padre Pio a nutrire nei suoi confronti solo sentimenti di stupore e di ammirazione, ma devono far nascere anche il desiderio dell'emulazione, di farsi contagiare dal suo esempio senza cedere allo scoraggiamento, dinanzi alla consapevolezza di non poter raggiungere la vetta della continua condizione di dialogo aperto con il Signore, che ha caratterizzato la religiosità di quest'uomo, indubbiamente assistito da una grazia divina non comune. Per questo è stata meritoria l'iniziativa di Fra Riccardo di cercare all'interno delle lettere dell'epistolario di Padre Pio tutte quelle espressioni che assumevano la formulazione della preghiera, raccogliendole in un unico volume, che è il risultato molto apprezzato. Lo testimonia il fatto che dopo la sua prima pubblicazione risalente al 2007 sono state necessarie ben sette ristampe e si è avvertita anche dopo l'opportunità di procedere all'elaborazione di una nuova edizione. A queste sono state aggiunte altre preghiere che, pur non essendo scaturite dal cuore del cappuccino simmatizzato, sono state quotidianamente sulle sue labbra dischiuse per elevare al cielo la commovente melodia di un sentimento che ardeva nel suo petto. Quindi questa è la presentazione di un libro che racchiude le preghiere di Padre Pio, tratte, grazie a Fra Riccardo Fabiano, tratte appunto dal suo epistolario, ma anche altre preghiere che Padre Pio stesso recitava. Quindi ecco, vi ricordo il titolo, le autentiche preghiere di Padre Pio, edizioni Padre Pio da Petrelcina, firma di Fra Riccardo Fabiano. Qualche tempo fa ho ricevuto la mail di una telespettatrice che ha voluto segnalarci l'importanza di parlare delle persone con disabilità, ma soprattutto del loro ruolo all'interno della Chiesa, non solo, c'è proprio un servizio all'interno della Chiesa dedicato a loro. E ho tra le mani questo libro, edito dalla San Paolo, intitolato proprio Catechesi e persone con disabilità. Un'attenzione necessaria nella vita quotidiana della Chiesa, a cura del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Questo volume nasce sicuramente da un invito di Papa Francesco, che in un'occasione disse la Chiesa non può essere afona o stonata nella difesa e promozione delle persone con disabilità. Un invito appunto di Papa Francesco, che è stato accolto da Monsignor Francesco Spinelli e Monsignore Eugène Silva, ufficiali del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Davvero un libro che diventa un aiuto concreto per formare catechisti e operatori pastorali sempre più capaci di accompagnare, di mettersi a fianco alle persone con disabilità, perché crescano nella fede e diano il loro contributo, il loro apporto genuino alla Chiesa. Leggiamo a pagina, ci sono anche altri contributi, mi ha colpito quello che scrive a pagina 35, Miguel Romero, che parla del fratello Vincent, che ha una grave disabilità cognitiva, ha 41 anni, ma ha le stesse capacità di un bambino di 6 mesi, e scrive Con l'aiuto di Santo Maso d'Aquino, alla luce degli insegnamenti della Chiesa Cattolica, ho compreso meglio la mia esperienza convinsante, e ho potuto convincermi di due aspetti. Non c'è nessun difetto nell'umanità di mio fratello, tantomeno nella sua capacità di ricevere l'amore di Dio, e non c'è nulla di anormale nel suo essere corpo e membra di Cristo, o nella sua vocazione al discepolato cristiano. Questo è ciò che ho compreso, su come i cristiani accolgono le implicazioni antropologiche, morali e vocazionali di una malattia, invalidità o menomazione grave o fortemente debilitante. Il messaggio principale che vorrei trasmettere è che, prestando un'attenzione particolare alla disabilità, possiamo implementare ogni tipo di cambiamento programmatico e metodologico al Ministero della Catechesi. Comunque, non sarà mai sufficiente tutta la fantasia possibile per riadattare la Catechesi al dono che mio fratello porta con sé. Se non riconosciamo, anzitutto, come il Vangelo ci provochi a rivedere alcuni presupposti radicati riguardo al significato catechetico di disabilità. Infatti, alcuni preconcetti su questa nozione possono indebolire il nostro impegno nello sviluppo delle pratiche catechetiche, ma questo, come dire, è qualcosa che non deve spaventare, ma soprattutto è una sfida che il Vangelo lancia ad allargare davvero i propri programmi. In questo caso, ha uno slancio evangelico diverso, una misericordia cristiana diversa, soprattutto nei confronti delle persone con disabilità, perché, come ha detto Papa Francesco ed è riportato in quarta di copertina, impariamo a superare il disagio e la paura che a volte si possono provare nei confronti delle persone con disabilità. Impariamo a cercare e anche a inventare con intelligenza strumenti adeguati perché a nessuno manca il sostegno della grazia e questo libro è uno strumento adeguato a fare questo, quello che appunto a cui Papa Francesco invita. Edito dalla San Paolo, catechesi con persone e persone con disabilità a cura del Pontificio Consiglio per la promozione nuova evangelizzazione. Lui si chiama Osvaldo Poli, è uno psicologo e psicoterapeuta, è sposato, ha due figli e firma questo libro edicto dalla San Paolo, che davvero è un manuale di istruzioni per i genitori perché si intitola Né asino né re. Capire figli e fare la cosa giusta, che poi è la cosa anche più difficile da capire. Come riesco a capire se sto facendo la cosa giusta? Beh, questa volta non voglio partire dall'inizio della presentazione o prendendo spunto dal libro, ma partirei proprio dalla conclusione. Sarebbe ingenuo ritenere di poter comprendere la realtà in tutta la sua complessità. La pretesa di cogliere la realtà in modo perfetto, totale e definitivo ci renderebbe presuntuosi. Possiamo cercare di avvicinarci all'obiettività solo in modo imperfetto. E scrive ancora E poi, proprio in conclusione, scrive Molti genitori hanno il coraggio di mettersi in discussione, animati dal sincero desiderio di capire i figli, più che di vedere riaffermata la propria opinione. La voglia di capire li rende ammirevoli, liberi di obiettare, come di lasciarsi convincere, perché loro prevale il bisogno di aiutarli, più che di avere ragione o di non suscitare impressioni negative. L'amore per i figli rende necessario anche l'amore per la verità. Anche essi, infatti, vanno visti spassionatamente con quel distacco emotivo che favorisce l'obiettività del giudizio. La disponibilità spirituale verso la verità sostiene quella psicologica verso la realtà, creando uno stato di grazia dell'intelligenza che la rende prudente, capace di conoscere con realismo e di giudicare con obiettività. Quindi, come dire, quello che emerge in questo libro firmato dallo psicologo e psicoterapeuta Osvaldo Poli mi ha colpito, scusate questi voli pindarici, il fatto che lui parta parlando di prudenza e quando ci sono genitori e figli e figli genitori che si scontrano, la prudenza forse è una delle parole meno utilizzate, però è proprio così. Scrive nella presentazione Osvaldo Poli, è essenziale imparare a conoscere realisticamente i figli, in realtà un'altra volta ritorno a questo termine, e attribuire il giusto significato ai loro comportamenti, per sapere quale atteggiamento educativo avere, adottare nei loro confronti. Molto interessante, Ne Asino, Ne Re, Capere i figli e fare la cosa giusta, edito dalla San Paolo, firmato dallo psicologo e psicoterapeuta Osvaldo Poli. E concludiamo, come accade ogni settimana, con una storia, perché le storie ci riportano indietro nel tempo, a quando eravamo bambini, le favole, le fiabe della buonanotte, e non si è mai troppo grandi per leggere o farsi raccontare o raccontare una storia. Io scelgo sempre quelle di Bruno Ferrero, Piccole storie per l'anima, LDC, i fiori semplicemente fioriscono. La storia che vi voglio leggere quest'oggi si intitola La domanda. Un famoso filosofo giorno dopo giorno si tormentava per cercare il significato ultimo dell'esistenza. Aveva dedicato alla soluzione di questo enigma i migliori anni di vita e di studio. Aveva consultato i più grandi saggi dell'umanità e non aveva trovato alcuna risposta soddisfacente alla domanda. Una sera, nel giardino della sua casa, mettendo da parte i suoi pensieri, prese in braccio la sua bambina di cinque anni, che stava giocando allegramente, e le chiese. «Bambina mia, perché sei qui sulla terra?» La bambina rispose dicendo e sorridendo. «Per volerti bene, papà». Ebbene, come scrive Bruno Ferrero, si dovrebbe annunciare un immenso decreto. «La vita è di tutti. Essa è donata gratuitamente ed offerta appassionatamente. È il dono fondamentale di amore ovunque, ben al di là di ciascuno, molto più lontano della vita». «Piccole storie per l'anima», quelle che davvero fanno bene al cuore, da tenere sul comodino e perché no, da leggere così casualmente, aprendo una pagina al giorno, perché no, anche più volte al giorno, se ne abbiamo voglia. Bruno Ferrero, «Piccole storie per l'anima», i fiori semplicemente fioriscono, edizioni LDC. E questo è l'ultimo libro di questa presentazione, di questa puntata di Tra le righe in libreria. Grazie a tutti per averci seguito, per rivedere questa puntata, e anche le altre che sono già andate in onda, vi rimando al nostro canale YouTube Padre Pio TV. Grazie a tutti per l'attenzione, alla prossima settimana. Grazie a tutti per l'attenzione, alla prossima settimana.